Calatafimis e Gesta Festival Dionisiac 2019 di scena ieri sera, una bella pagina di cultura e solidarietà per la settimana dedicata al teatro del territorio con la storia della pluri campionessa di nuoto parolimpico Giusy Barraco. Dietro la regia di Giacomo Bonagiuso sentirete ovviamente l'intervista ad entrambi. Raccontami di te, raccontami della tua storia. Una bambina che aveva dovuto affrontare tante difficoltà in un ambiente purtroppo molto stretto. I medici si brancolano nel buio, mamma! Chi è diversamente apile, in questa società non c'è spazio. Che sensibilità ha fatto, in particolare agli arti inferiori al di sotto del ginocchio. Vivo alla giornata, sogno alla giornata, lotta alla giornata. Questo spettacolo non è per mettermi in mostra, è per lanciare un messaggio a chi la vita sembra che tutto è dovuto. Di te queste parole pesano come macigni a chi pensa che tutte le brutture del mondo ricadano su di lui. Nello stesso momento, oltre ad essere pesanti, sono parole anche di speranza, di luce. Tutto è possibile, basta volerlo. Io sono qui, mi sono messa in gioco e continuerò a farlo. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò. Lui ha vissuto la mia storia, l'ha ascoltata. Io non voglio piedismo. Perché avete dato questo bel tiro? Giuseppina, chiamare una persona come non vuole essere chiamata, se tu sei Antonio e ti chiamano Tony va bene, ma se sei Antonio e non ti ha mai chiamato nessuno Tony, Tony è proprio per sminirti. Come quelle fanno finta di sbagliare i cognomi della gente. Pronto, dottoressa, buongiorno, salve, allora la bambina di nuovo la febbre, eh? 108 e 7, e poi vomita, vomita, vomita. Tante piccole storie dentro. Lei lavorava, ma qualcuno pensava che i diritti conquistati dal lavoro fossero dei favori. E quindi le diciamo, ma tu non produci, tu devi stare a casa. E che ci fai con tutti questi permessi? La sedia non bastava a certificare i permessi. Ha lottato anche con questo, perché non fosse identificata con la sedia, ma con i suoi diritti di lavoratrice, ci tiene a dire dentro lo spettacolo. Pina per questo, volante perché vi giuro che alla fine vola. Non è che fare un pirandello, fare uno spettacolo, qui c'è il copione. La cosa più difficile per me è stato scriverlo, non sfiorando nessuna delle corde pietistiche che potete immaginare. Io ti chiedo di guarire, so leggere bene la cartella clinica. Io ti chiedo una speranza. Lei non voleva che si raccontasse cinismo, e allora la prospettiva è stata quella di affrontare il dramma, la felicità, la vita, tutto, che la vita è giusi, attraverso la lente privilegiata di due ragazzine, diciotteni, le cuginette, che vedevano sullo sfondo di privazioni, motorini comprati, permessi dati, più facilità di vita per lei, quasi un rubare loro spazio. Pinchia, lo motorino c'è cattaro. Se no diventava un testo di medicina e non avrebbe avuto presa. A me, al liceo quasi finito, la bicicletta se la volevo. Mi guardi come per capire se ti ascolta e ti venga presa. Non parlo con il copione, con i discorsi di fatti, parlo al mio cuore, la mia storia, le mie lotte, i miei pianti, libera, con la mia sedia, con la mia compagna di vita. Questa è giusi. Grazie. Grazie. Grazie.